Visita e lezione dell'arbitro Giovanni Airoldi ad Arezzo accompagnato dai colleghi Volpi, Pagliardini e Scatragli Airoldi, Pugliese e Fischietto d'Arte. Visto che sia il nono che il padre sono stati i direttori di gara di livello internazionale, è stato un pomeriggio intero con i ragazzi della stizione retina. Prima con un allenamento al Campo Lebole e la sera dopo una pericena lezione sulle nuove disposizioni che interessano l'attività arbitrale. Un pomeriggio decisamente piacevole che ha permesso ai giovani arbitri Airoldi di avere una lezione di vera e propria formazione sul campo. Soddisfatto il presidente della sezione retina, Sauro Cerofolini.